Salve a tutti youtubeiani e benvenuti in questo nuovo video, che si ho cambiato la intro, una delle cose che voglio, volevo proporvi in questo piccolo blocchio molto molto veloce per dirvi che A, appunto, potrebbero partire dei log se vi interessa, devo ancora calibrare la camera, yeeey, B, e a parte la distanza che è un casino, B, quanti serie vi possono interessare, io attualmente ho disinstallato The Witcher, perché l'ho finito per conto mio e quindi in realtà ho iscrivito, e anche perché stai parlando, appunto, PlanetSide 2, che è un free to play molto 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 bello, sconfinato, assurdo, andate a guardare qualcosa su youtube, comunque io appena finisco di scaricarlo, credo che ci farò un paio di video, quindi, insomma, ricapitolando velocemente le opzioni dei giochi, sono, a proposito, se vedete gli occhiali, gli occhiai è al volo, ho appena fatto due partite a League of Legends, quindi è un casino. Allora, PlanetSide 2, Bagel Deluxe, sì, l'ho comprato 5€ ben speso, secondo me è molto divertente, e, wait, Sniper Elite, non si zombie armi 2, anche se mi lagga, molto, tipo, vado a 20 FPS quando va bene, 10 quando va male, 8 anche, e Airstone, ovviamente, League of Legends, se lo bucchiamo dentro per un po', beh, proviamo, anche se i video sarebbero lunghissimi, e, boh, non so che altro, se volete consigliarmi i giochi free to play, o che costino poco, fate pure, ah, un'altra opzione che posso fare, però devo chiedere a Defensive per vedere se è d'accordo, Defensive 56, se no potrei giustarlo anche un po' per conto mio, con Defensive 56 più divertente, che è Gansal Vidalos, un altro FPS molto più, molto diverso da PlanetSide 2, perché, a parte che PlanetSide 2 è un FPS, credo, non mi ricordo già più, vabbè, e, ma perché anche, scusate, ma perché, in italiano, parlando a farsi cringere, cosa volevo dire, ah, già, perché su Gansal Vidalos siete su una nave, e quindi ci sono diversi ruoli, che sono il Gunner, l'Ingegner e il Pilot, io faccio il Gunner di solito, c'ho fatto 3, di cui una vera e due di gioco, yeah, comunque, fatemi sapere che serie vi possono interessare, fatemi sapere se questa nuova intro, ovvero, salva tutti i YouTubiani, al posto di, eh, salva tutti i YouTubiani e benvenuti in un nuovo video, al posto di un nuovo video, ragazzi, sono più stante di 84 e benvenuti in un nuovo video, vi può interessare, quale può essere il migliore, aspetto i commenti, se volete altri in là, conditelo, in cui io rispondo a vostre domande o dico qualcosa, faccio qualcosa, a posto, insomma, spero che questo mini-plug mi faccia piacere, se è così lasciate un mi piace, commento, ovviamente, e passate da Facebook, passate dal panel di Defensive Shui G56, che appunto l'ho nominato, quindi non posso non metterlo in descrizione, passate dai Zombie Gamers, che stiamo per rafferire, a quanto pare, appena a Defensive arriva il nuovo processore, si parte. Quindi la pista 5.4 è tutto, ciao a tutti!